Buongiorno a tutti e ben ritrovati! Oggi andiamo a risolvere insieme questo esercizio sempre sui trasduttori di temperatura in questo caso abbiamo un trasduttore di temperatura con un'uscita in corrente quindi un po' diverso dal solito invece di avere l'uscita in tensione abbiamo l'uscita in corrente con questa relazione ho invertito le due lettere quindi relazione che è pari a I adesso poi ce lo riscrivo vabbè, relazione I uguale a I0 che sappiamo anche quanto vale 273 microampere e K che è questo coefficiente che diciamo fondamentalmente per mettere in relazione la temperatura con la corrente quindi abbiamo il coefficiente pari a 1 microampere fratto grado centigrado e vogliamo che l'uscita vari quindi qua la V0 che in realtà poi non ho specificato dove è ma è qua vari tra 0 e 10 guardate così che vado a scrivere quello che manca una cosa che mancavano dei pezzi quindi qua così qua abbiamo detto relazione c'era l'errore quindi l'uscita varia tra 0 e 10 per temperature comprese tra meno 10 gradi centigradi e più 40 gradi centigradi allora dimensionare cosa vuol dire? vedere quanto vale il valore di un ref di questa tensione di riferimento di R1 di R2 e allora questa invece già è già data come meno Vcc quindi sappiamo in realtà che il nostro operazionale è alimentato in modo duale con più o meno Vcc qui avremo la Vcc e qua la più Vcc quindi quando si devono trovare delle non trovare quando si devono inserire altri valori di tensione fissi bisogna il più possibile sfruttare quelli che ci sono già presenti perché ovviamente ogni volta che devo avere un'alimentazione di tipo una tensione di tipo diverso di tipo diverso devo poi aggiustarla con un partitore o d'altro ma se io riesco ad utilizzare quelle che ci sono già di alimentazione dell'operazionale sono a posto quindi siccome qua ho una meno Vcc magari una Vref la mettiamo uguale a più Vcc e così almeno evitiamo altri collegamenti e ci basiamo il dimensionamento lo basiamo tutto su quello ma lo vediamo insieme tra un attimo quando andremo a svolgere il nostro esercizio bene allora intanto andiamo a vedere i versi delle correnti quindi la corrente dalla mia Vref avrò che andrà ci sarà una corrente che fa così e un'altra corrente che per il discorso quadripoli e per il discorso che qui ho una massa virtuale quindi qua in realtà ho la mia massa virtuale la mia corrente questa fa così e questa fa così quindi posso andare a allora questa la chiamo I1 e questa la chiamo I2 quindi avrò che la mia I1 è uguale a Vref fratto R1 sempre per il discorso che qui abbiamo la massa quindi Vref fratto R1 e I2 è uguale tanto pigio tasti che non c'entrano niente vicini e la I2 è uguale alla V0 fratto R2 perché appunto ai capi di R2 sappiamo che c'è la V0 la I abbiamo visto che è uguale a I0 più KT che è questa relazione qui quindi è uguale a 273 micro più un micro per T ora andiamo a vedere e abbiamo anche che la I è uguale I1 più I2 allora partiamo da la V0 quindi partiamo da V0 che abbiamo visto qua possiamo scrivere come R2 per I2 ora andiamo ad esprimere I2 in funzione di I e I1 quindi ricordiamo che dobbiamo andare a esprimere l'uscita in funzione di in funzione di quello che è la temperatura quindi la I questa I del trasduttore quindi la I2 la possiamo esprimere da questa come I meno I1 ora andiamo a sostituire quindi abbiamo R2 qui ci apriamo una quadra una tonda 273 micro più un micro T chiusa chiusa meno I1 che è Vref meno R1 ma è meno diviso R1 penso una cosa e ne dico un'altra ahimè quindi chiusa quadra bene questa è la nostra relazione a parte il discorso di poterla un attimino poi semplificare è la mia relazione che liga la tensione di uscita a quello che è la temperatura del trasduttore ora che cosa ho di altri che cosa ho di altri valori per poter andare a dimensionare i miei componenti devo fare devo mettere a sistema i valori quindi l'uscita di 0 volt quando ho la temperatura di meno 10 e l'uscita di 10 volt e quando ho la temperatura di più 40 quindi creare due relazioni che sfruttano due equazioni che sfruttano questa relazione e metterle a sistema e poi vedere siccome ho R1 R2 e Voref e ho solo due equazioni ad esempio impongo un valore impongo a Voref che sia più Vcc che sia i 15 volt ad esempio così almeno mi tolgo da una relazione suppongo che di prendere Voref uguale a più Vcc uguale a più 15 volt poi abbiamo detto andiamo a scrivere le relazioni mamma che tremenda graffa ok così va un po' meglio allora la prima relazione e la seconda relazione metto così perché poi in genere qua quando si utilizzano queste equazioni qua si può poi semplificare sottraendole e tagliando un po' di passaggi allora la prima ho 0 volt uguale R2 che è un'incognita allora vado già a moltiplicare faccio R2 per 273 micro più R2 anzi no facciamo che prima lo scrivo che sennò non si capisce gran che bene facciamo così quindi aspettate quindi rifacciamo così che allora 273 quindi qua no facciamo così più un micro un micro e poi mettiamo la temperatura quindi meno 10 così sono troppi passaggi tagliati non si capisce gran che bene quindi questo in realtà c'è un'altra quindi questa qua con il valore T meno 10 poi meno Voref e lasciamo pure questa qua Voref fratto R1 perché anche senza sostituire il valore di Voref poi vedete il perché R1 ok e qua andiamo a chiudere la quadra poi invece l'altra quindi l'altra abbiamo il valore abbiamo 10 volt che devono corrispondere a R2 quadra tonda 273 micro più un micro con temperatura di più 40 lascio il più così si capisce meglio che è la temperatura anzi potevo anche metterci i gradi ma vabbè più 40 poi ancora chiusa questa e sempre meno tutta questa relazione qua ok queste sono le mie due il mio sistema di equazioni ora se io come vedete se io vado a allora facciamo ancora un passaggio e poi lo facciamo dopo sì facciamo ancora un passaggio lo dico dopo perché se io vado a fare la seconda meno la prima tutta questa parte mi va via però facciamo ancora un passaggio 0 uguale allora moltiplico questo per questo quindi ho R2 273 qua in realtà avrei 273 meno 10 quindi diventano 263 micro l'ho fatto già questo meno questo così almeno un passaggino l'ho fatto e poi mi rimane sempre quella di prima così a questo punto possiamo anche qui mi manca almeno ma questa parentesi non mi serve più qua però ho il meno poi invece qua sotto ho 10 uguale allora R2 che moltiplica qui ho 273 più 40 quindi ho 313 63 più 40 313 controllate sempre i conti perché sono poco affidabile io quando sono stanca mi si incrociano gli occhi e poi questa qua sempre bene quindi così almeno sono un po' più snelle come come equazioni ok adesso riparto da qua allora vedete che se io faccio tutta la seconda meno la prima in realtà ho questo meno questo mi diventa meno meno più tutta questa parte va via e quindi ricavo immediatamente la R2 quindi qui faccio la seconda meno la prima quindi mi rimane 10 meno 0 10 e poi mi rimane 313 313 meno 263 perché lo faccio 50 quindi qua mi rimane R2 50 micro e basta quindi fondamentalmente poi questo rimane 0 quindi in realtà io da questa vado a ricavare R2 che mi diventa 10 fratto 50 e poi micro che quindi mi rimane 0,2 e mi rimane poi 10 alla 6 quindi mi rimane 200 kilo ohm ora da quella che è 200 kilo ohm e Voref che abbiamo detto è 15 vado a dalla seconda ad esempio vado a mettere 10 uguale 200k per 313 per 313 u meno voref che abbiamo detto mettiamo 15 tratto R1 che mi diventa la mia incognita R1 quindi quindi questa qua mi rimane R1 uguale 200k per 15 per 313 per 313 perché 52,6 perché allora aspettate qua abbiamo 200 per 313 e viene 62,6 ok qua avremo 62,6 quindi aspettate che vi faccio un appuntino qua quindi questo viene 62,6 62,6 e qua ho un meno 10 e no perché ho detto ho scritto 62 ho scritto 52 perché ho già fatto il conto allora questo è 62,6 a cui poi devo togliere i 10 che sono di qua quindi porto questo di sopra e qua mi rimane 52,6 ma spero che si riesca a capire allora insomma è ricavare l'incognita da questo e viene circa 57 kOhm quindi quindi qua circa 57 quindi questo è l'R1 quindi abbiamo dimensionato pure F R1 R2 quindi direi che siamo a posto e quindi c'era da fare altro no quindi questi valori qua mi garantiscono che quando ho la 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 tensione la corrente ormai non ne posso più la temperatura meno 10 gradi ho la tensione di uscita di 0 e quando ho più 40 la tensione di uscita di 10 stavo pensando come poter come poterlo fare col simulatore beh posso farlo semplicemente con un generatore facendo in modo che il trasduttore sia un generatore di corrente allora proviamo a farlo facendo in modo che questo sia il generatore di corrente con i due valori estremi quindi con il valore 273 uno questo valore qua quindi 263 micro ampere e l'altro 313 micro ampere ok proviamo a farlo così vediamo se ci viene corretto bene allora il mio circuito facciamo conto che questo sia il trasduttore quindi qua abbiamo l'alimentazione meno 15 qua la mia Voref che è allora come chiamiamo la Voref così si capisce che cosa è questa in realtà la chiamiamo Vcc quindi qua la Voref di 15 qua la meno Vcc e allora qui abbiamo il primo caso in cui ho la temperatura di meno 10 e quindi ho la diciamo la corrente del trasduttore che è 263 micro ampere fatta in questo modo quindi l'uscita come vedete è in millivolte quindi viene 0,031 quindi 0,03 in effetti più o meno visto che abbiamo fatto un po' di approssimazioni con i calcoli ci sta quando invece mettiamo la corrente corrispondente i più 40 che è 313 micro qua in uscita abbiamo 9,968 anche qua dovrebbe essere 10 diciamo che salvo approssimazioni ci siamo quindi un circuito dimensionato in quel modo lì come vedete anche negli esercizi che abbiamo fatto in precedenza c'è sempre quando vogliamo fare in modo che l'uscita abbia un determinato range di valori andiamo a lavorare proprio sulle due resistenze in modo da sostanzialmente aggiustare il valore di tensione in relazione ai due estremi di temperatura che abbiamo quindi utilizziamo le due equazioni per andare appunto a fare questo dimensionamento bene spero che vi possa essere d'aiuto che sia tutto chiaro fatemelo sapere nei commenti ci vediamo alla prossima lezione e ciao ciao grazie